Luca Morstabilini è l'ideatore di questo torneo Novazza Wimbledon con l'Associazione Ingegneri di Bergamo. Com'è nata questa idea? Questa idea nasce ormai da quattro anni fa, infatti oggi siamo alla quarta edizione, eravamo nel periodo Covid e dovevamo ripartire e quindi come associazione abbiamo pensato a qualcosa che si potesse fare all'aperto, quindi con le dovute distanze e quindi è partita un po' così, un po' per gioco con altri due amici e abbiamo provato a organizzare. È iniziato con otto giocatori e comunque è stato un bel successo. Con gli anni siamo cresciuti, quindi abbiamo organizzato oltre al torneo di singolo anche il torneo di doppio e quest'anno abbiamo raggiunto record di iscritti, infatti abbiamo avuto più di 20 giocatori. Oltre non riusciamo perché il campo è solo uno e ovviamente il tempo fa da padrone e fortunatamente anche quest'anno abbiamo preso due giornate bellissime di sole e quindi il campo è stato sfruttato al 200%. Andiamo anche alla parte sportiva del torneo, come è andata quest'anno? Sì, è stata ancora un'altra battaglia agonistica e abbiamo organizzato sempre due tornei, uno singolo e uno doppio. Nella categoria singolo ha vinto per il secondo anno consecutivo Simone Bonalumi e si è piazzato al secondo posto Luca Mostabilini, mentre nella categoria doppio ha vinto la coppia Claudio Rimondini e Simone Bonalumi, mentre al secondo posto sono piazzati Giuliano Mostabilini e Lucio Bonandrini. È stato, come dicevo, due giorni belli, ricchi, intensi. A corredo di questo evento poi ci sarà, o meglio, in questo momento stiamo effettuando la grigliata, abbiamo più di 120 iscritti e quindi questo è proprio anche il motivo per cui l'associazione lavora costantemente, non solo sport, ma creare anche aggregazione. L'associazione lavora costantemente, non solo sport, ma creare anche aggregazione. E siamo con i vincitori di questa edizione 2024, Simone Bonalumi e Claudio Rimondini. Simone Bonalumi ha vinto sia singolo che doppio, doppio in coppia con Claudio Rimondini. Com'è stato questo torneo? È stata un'altra esperienza fantastica, ogni volta qua è bellissimo, quindi ringrazio davvero tanto tutta l'organizzazione, l'associazione ingegneri di cui sono membro anch'io e soprattutto Luca che ha pensato tanto a questo evento e il presidente Angelo Ferrari. È stato molto bello partecipare in queste due giornate magnifiche, poi il sole ha retto, quindi sono state proprio belle, insieme a tutti, la famiglia, gli amici. È stato davvero un evento bellissimo. Ringrazio Simone che ci conosciamo da una vita, è un grande amico e anche lui è sponsor importante dell'associazione ingegneri e quindi fa anche lui nel suo piccolo andare avanti questa nostra realtà. Affiatati come coppia anche nel tennis? Oggi è sembrato così. Un po' di fortuna come Wimbledon Novazza ha sempre fatto col suo terreno un po' incognito. Oggi è andata bene a noi, soprattutto a me, che è la prima volta per me, quindi davvero grazie a tutti. Simone Bonalumi invece è già da qualche anno che vince questo torneo? Sì, l'anno scorso e quest'anno. È andata bene, sono cambiati gli avversari, sempre tosta, ma un paio d'anni è andata bene e ce l'ho fatta. Poi l'importante è passare due giornate insieme, divertirsi e basta. Ringrazio anche io gli organizzatori, tutti che ci permettono di passare queste belle giornate, fare questo torneo, divertirci e basta. Il tennis è una passione che ti accompagna da tempo? Ma a dire vero, ho sempre giocato a calcio. Poi quando ho smesso ho cominciato a fare qualcosina col tennis e basta, è giusto per fare questi tornei, queste belle giornate, passare queste giornate insomma. Dai risultati però, con la racchetta ci hai preso la mano. È meglio che iniziamo col tennis e non col calcio. Siamo con il nuovo presidente dell'Associazione Ingegneri Bergamo, eletto da poco. Parliamo della vostra associazione, che cosa fate? Sì, ecco, come hai detto te, a fine luglio abbiamo rinnovato le cariche sociali e mi hanno eletto presidente dell'associazione. L'associazione è nata nel 2018 e organizza prevalentemente eventi sportivi e culturali legati a stretto contatto con l'Ordine degli Ingegneri di Bergamo, a cui ci lega un forte legame. Quindi eventi sportivi, facciamo campionati di calcio a livello nazionale organizzati dal CNI, che è il Congresso Nazionale degli Ingegneri, e poi a livello locale organizziamo eventi come questo, torneo di tennis, torneo di padel e anche di beach volley che faremo il sabato 14 settembre. Oltre a questo, come dice anche il nostro nome dell'associazione, organizziamo anche eventi culturali legati sempre al nostro territorio di Milano e Bergamo e ultimamente sempre seguiti da un bel gruppo di persone. I soci sono circa 80, quindi un numero che cresce di anno in anno legati a questi eventi che facciamo e appunto col passaparola, con questo gruppo, continua ad aumentare. Quindi quest'anno c'è questo forte ricordo lasciato da Gianandrea Schiavi, quindi tutte le attività in fondo vengono ricondotte a lui, al suo ricordo. Sì, sì, ovviamente tutto quello che facciamo è legato soprattutto a livello sportivo, è legato alla sua figura, in quanto lui è stato uno dei primi soci a iscriversi, ha sempre partecipato alla squadra di calcio degli ingegneri sin dal 2004, quando ci siamo costituiti, e quindi è inevitabile che tutto quello che è legato al mondo dello sport è legato al nostro amico, al nostro compagno che è mancato. Bravi! Novazza continua ad ospitare questo appuntamento, è anche un'occasione per valorizzare questo impianto, questo campo da tennis in erpa. Sì, quello mi fa molto piacere, perché quando ho avuto l'idea di fare il campo da tennis non sapevo come farlo, col fondo sintetico, col fondo in cemento, sono andato a chiedere informazioni a Ruggeri di Clusone, che era un esperto, e lui mi fa, ma dove abiti? E io gli ho detto, siamo un paese di 120 abitanti, Novazza, Comuni Valgoglio, fa, mi ascolti me, fallo in erba naturale, che volevo farlo anch'io, ma poi non sono più riuscito. E su questo consiglio ho continuato il lavoro, e devo essere sincero, è stato un consiglio molto utile, che viene anche apprezzato da tanti. Ecco, porta un po' di lavoro, nel senso che ogni 3, 4, 5, 6 giorni bisogna tagliarlo, però poi ci pensa madre natura, quando piove l'erba cresce da sola, e niente. Però ecco, adesso vedo che sono 4 anni che l'Associazione Ingegneri viene a giocarci, perché ha individuato il luogo, gli piace, e dopo, in 4 anni che organizziamo il torneo, c'è sempre stato delle magnifiche giornate. Ecco, fa piacere, come Comune, che tanta gente, anche della nostra valle, non conosceva il paese, un piccolo paese, appeso, tutto in salita, però nella vegetazione così lo apprezzano.